Cari ragazze, questo è un video super super veloce da me e Alice, vi invitiamo e riepiloghiamo un po' a quello che è il nostro incontro anche con Cristina e Lorenzo che quindi per motivi di scioperi si è spostato il 31 maggio che è un venerdì alle ore 15 l'appuntamento è per tutte a Roma Termini poiché sulla pagina dell'evento per le ragazze che possono andare direttamente a Villa Borghese si recavano lì ma il problema è che venerdì purtroppo non sarà una bella giornata quindi per evitare scazzi vari e spostamenti ci vediamo tutti anche con il seguito di Alice a Roma Termini staremo lì perché andare in un centro commerciale con autobus, metro non è l'ideale quindi staremo lì tanto ci sono i negozi c'è il mac molto grande se vogliamo prendere un caffè o un panino o scofanarci c'è tutto lì c'è per le ragazze per voi o no sefora come si chiama e quindi insomma poi l'importante è stare insieme quindi se che dovete andare a fare shopping c'è un altro giorno no che venite all'incontro quindi venite 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 ho letto dei commenti tipo no perché io non sono una mamma oppure io sono piccola ma stiamo scherzando sono accettati tutti accettati proprio sono accettati tutti mamme figli figlie zii cani gatti vero mamma noi accettiamo tutti peace and love peace and love mamma e non so molto distratta dice e quindi ragazze ore 15 davanti ebooks ebook la vecchia mondadori comunque voi chiedete è una l'unica libreria che è a roma termini su due piani voi andata al piano superiore tutta di vetro e sporge sulla piazza dei grazie e sporge sulla piazza dei cinquecento quindi voi basta che chiedete ebook e spero che si chiami così comunque voi mi saprete sicuramente correggere sotto i commenti un bacio grande e ci vediamo venerdì